Stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla, me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio, ed un tratto, in quel buio, si è acceso un lampo di certezza, si c'eri, esistevi. E' stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata, mi si è fermato il cuore, e quando ho ripresa a battere con tonfi sordi, cannonate di sbalordimento, mi sono accorta di precipitare in un puzzo dove tutto era incerto e terrorizzante. Ora eccomi qui, chiusa chiave dentro una paura che mi bagna il volto, i capelli, i pensieri, e in essa mi perdo. Cerca di capire, non è paura degli altri, io non mi curo degli altri, non è paura di Dio, io non credo in Dio, non è paura del dolore, io non temo il dolore, è paura di Dio, è paura di Dio, del caso che ti ha strappata al nulla, per agganciarti al mio ventre. Non sono mai stata pronta ad accoglierti, anche se ti ho molto aspettato. Mi son sempre posta l'atroce domanda, e se nascere non ti piacesse? E se un giorno tu me lo rimproverassi gridando, chi ti ha chiesto di mettermi al mondo? Perché mi ci hai messo? Perché? La vita è una tale fatica, bambino. È una guerra che si ripete ogni giorno. E i suoi momenti di gioia sono parentesi brevi che si pagano un prezzo crudele. Come faccio a sapere che non sarebbe giusto buttarti via? Come faccio a intuire che non vuoi essere restituito al silenzio? Non puoi mica parlarmi. La tua goccia di vita è soltanto un nodo di cellule appena iniziate. Forse non è nemmeno vita, ma possibilità di vita. Eppure darei tanto perché tu potessi aiutarmi con un cenno, un indizio. La mia mamma sostiene che glielo detti, che per questo mi mise al mondo. La mia mamma, vedi, non mi voleva. Ero incominciata per sbaglio, in un attimo di altrui distrazione. E perché non nascessi ogni sera scioglieva nell'acqua una medicina. Poi la beveva, piangendo. La bevi fino alla sera in cui mi mossi dentro il suo ventre e le tirai un calcio per dirle di non buttarmi via. Lei stava portando il bicchiere alle labbra. Subito lo allontanò e ne rovesciò il contenuto per terra. Qualche mese dopo mi rotolavo vittoriosa nel sole. E se ciò sia stato bene o male, non so. Quando sono felice, penso che sia stato bene. Quando sono infelice, penso che sia stato male. Però, anche quando sono infelice, penso che mi dispiacerebbe non essere nata perché nulla è peggiore del nulla. Io, te lo ripeto, non temo il dolore. Esso nasce con noi, cresce con noi. Adesso ci si abitua come al fatto di avere due braccia e due gambe. Io, in fondo, non temo neanche di morire. Perché se uno muore vuol dire che è nato, che è uscito dal niente. Io temo il niente. Il non esserci. Il dover dire di non esserci stato. Sia pure per caso, sia pure per sbaglio, sia pure per l'altrui distrazione. Molte donne si chiedono Mettere al mondo un figlio? Perché? Perché abbia fame? Perché abbia freddo? Perché venga tradito ed offeso? Perché muoia ammazzato alla guerra o da una malattia? E negano la speranza che la sua fame sia saziata, che il suo freddo sia scaldato, che la fedeltà e il rispetto gli siano amici, che viva a lungo per tentare di cancellare le malattie e la guerra. Forse hanno ragione loro. Ma il niente è da preferirsi al soffrire? Io, perfino nelle pause in cui piango sui miei fallimenti, le mie delusioni, i miei strazzi, concludo che soffrire sia da preferirsi al niente. E se allargo questo alla vita, al dilemma nascere o non nascere, finisco con esclamare che nascere è meglio di non nascere. Tuttavia, è lecito imporre tale ragionamento anche a te. Non è come metterti al mondo per me stessa e basta? Non mi interessa metterti al mondo per me stessa e basta, tanto più che non ho affatto bisogno di te. Non mi hai tirato calci, non mi hai inviato risposte. E come avresti potuto? Ci sei da così poco. Se ne chiedessi conferma al medico, sorriderebbe di scherno. Ma ho deciso per te. Nascerai. L'ho deciso dopo averti visto in fotografia. Non era proprio la tua fotografia evidente, era quella di un qualsiasi embrione di tre settimane, pubblicata su un giornale insieme a un reportage sul formarsi della vita. E mentre la guardavo, la paura mi è passata, con la stessa rapidità con cui mi era venuta. Sembravi un fiore misterioso, un'orchidea trasparente. In cima si scorgeva una specie di testa con le due protuberanze che diverranno il cervello. Più in basso una specie di cavità che diverrà la bocca. A tre settimane sei quasi invisibile, spiega la didascalia. Due millimetri e mezzo. Eppure cresce in te un accenno di occhi, qualcosa che assomiglia a una spina dorsale, a un sistema nervoso, a uno stomaco, a un figato, a intestini, a polmoni. Il tuo cuore è già fatto ed è grande in proporzione nove volte più grande del mio. Pumpa sangue e batte regolarmente dal diciottesimo giorno. Potrei buttarti via. Che mi importa se sei incominciato per caso o per sbaglio? Anche il mondo in cui ci troviamo non incominciò per caso e forse per sbaglio? Alcuni sostengono che in principio non vera nulla fuorché una gran calma, un gran silenzio immobile. Poi si verificò una scintilla, uno strappo e ciò che non era fu. Allo strappo seguirono presto altri strappi, sempre più imprevisti, sempre più insensati, più ignari delle conseguenze e tra le conseguenze sbocciò una cellula, anche lei per caso, forse per sbaglio, che subito si moltiplicò a milioni, a miliardi, finché nacquero gli alberi e i pesci e gli uomini. Tu credi che qualcuno si ponesse un dilemma prima dello scoppio, prima della cellula? Credi che si domandasse se gli sarebbe piaciuto o no? Credi che si preoccupasse della sua fame, del suo freddo, della sua infelicità? Io lo escludo, anche se il qualcuno fosse esistito, ad esempio un Dio paragonabile all'inizio dell'inizio, al di là del tempo e al di là dello spazio, io temo che non si sarebbe curato del bene e del male. Tutto avvenne perché poteva avvenire, quindi doveva avvenire, secondo una prepotenza che era l'unica prepotenza legittima. E lo stesso discorso vale per te. mi prendo la responsabilità della scelta. Me la prendo senza egoismo, bambino. Metterti al mondo, lo giuro, non mi diverte. Non mi vedo camminare per strada col ventre gonfio. Non mi vedo allattarti e lavarti e insegnarti a parlare. Sono una donna che lavora. Ho tanti altri impegni e curiosità. Te l'ho già detto che non ho bisogno di te. Però ti porterò avanti lo stesso. Che ti piaccia o no. Te la imporrò allo stesso quella prepotenza che fu imposta anche a me e ai miei genitori, ai miei nonni, ai nonni di miei nonni, su fino al primo essere umano partorito da un essere umano che gli piacesse o no. Probabilmente se a costui o a costei fosse stato concesso di scegliere si sarebbe impaurito e avrebbe risposto non voglio nascere, no. Ma nessuno gli chiese un parere e così nacque e visse e morì dopo aver partorito un altro essere umano cui non aveva chiesto di scegliere. E costui fece lo stesso per milioni di anni fino a noi e ogni volta fu una prepotenza senza la quale non esisteremmo. Coraggio bambino pensi che il seme di un albero non abbia bisogno di coraggio quando buca la terra e germoglia? Basta un colpo di vento a staccarlo la zampina di un topo a schiacciarlo eppure lui germoglia e tiene duro e cresce gettando altri semi e diventa un bosco. Se un giorno dirai perché mi hai messo al mondo perché io ti risponderò ho fatto ciò che fanno e hanno fatto gli alberi per milioni e milioni di anni prima di me e credevo di fare bene. L'importante è non cambiare idea ricordando che gli esseri umani non sono alberi che la sofferenza di un essere umano è mille volte più grande della sofferenza di un albero per chi è cosciente che a nessuno di noi giova a diventare un bosco che non tutti i semi degli alberi generano alberi nella stragrande maggioranza vanno perduti. Un simile voltafaccia è possibile bambino la nostra logica è piena di contraddizioni appena fermi qualcosa ne vedi il contrario e magari ti accorgi che il contrario è valido quanto ciò che affermavi. il mio ragionamento di oggi potrebbe essere rovesciato così con uno schiocco di dita infatti ecco mi sento già confusa disorientata forse perché non posso confidarmi con nessuno al di fuori di te sono una donna che ha scelto di vivere sola tuo padre non sta con me e non me ne dolgo sebbene ogni tanto il mio sguardo cerchi la porta da cui egli uscì col suo passo deciso senza che io lo fermassi quasi non avessimo più nulla da dirci. Ti ho portato dal medico più che la conferma volevo qualche consiglio per risposta scosso la testa dicendo che sono impaziente che non può ancora pronunciarsi ripassi tra quindici giorni pronta a scoprire che eri un prodotto della mia fantasia tornerò solo per dimostrargli che è un ignorante tutta la sua scienza non vale il mio intuito e come fa un uomo a capire una donna che sostiene anzitempo di aspettare un bambino un uomo non resta incinto e a proposito dimmi è un vantaggio o una limitazione fino a ieri mi sembrava un vantaggio anzi un privilegio oggi mi sembra una limitazione anzi una povertà ve un chiedi glorioso nel chiudere dentro il proprio corpo un'altra vita nel sapersi due anziché uno a momenti ti invade addirittura un senso di trionfo e nella serenità che accompagna il trionfo niente ti preoccupa né il dolore fisico che dovrai affrontare né il lavoro che dovrai sacrificare né la libertà che dovrai perdere sarai un uomo o una donna vorrei che tu fossi una donna vorrei che tu provassi un giorno ciò che provo io non sono affatto d'accordo con la mia mamma la quale pensa che nascere donna sia una disgrazia la mia mamma quando è molto infelice sospira ah se fossi nata uomo lo so il nostro è un mondo fabbricato dagli uomini per gli uomini la loro dittatura è così antica che si estende perfino al linguaggio si dice uomo per dire uomo e donna si dice bambino per dire bambino e bambina si dice figlio per dire figlio e figlia si dice omicidio per indicare l'assassinio di un uomo e di una donna nelle leggende che i maschi hanno inventato per spiegare la vita la prima creatura non è una donna è un uomo chiamato Adamo Eva arriva dopo per divertirlo e combinare guai nei dipinti che adornano le loro chiese Dio è un vecchio con la barba bianca ma è una vecchia con i capelli bianchi e tutti i loro eroi sono maschi da quel prometeo che scoprì il fuoco a quel licaro che tentò di volare su fino a quel Gesù che dichiarano figlio del padre e dello spirito santo quasi che la donna da cui fu partorito fosse un'incubatrice o una balia eppure o proprio per questo essere donna è così affascinante è un'avventura che richiede un tale coraggio una sfida che non annoia mai avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna per incominciare avrai da batterti per sostenere che se Dio esistesse potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza poi avrai da batterti per spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo lisce e rotondo c'è un'intelligenza che chiede di essere ascoltata essere mamma non è un mestiere non è neanche un dovere è solo un diritto fra tanti diritti faticherai tanto a ripeterlo e spesso quasi sempre perderai ma non dovrai scoraggiarti battersi è molto più bello che vincere viaggiare è molto più divertente che arrivare quando sei arrivato o hai vinto avverti un gran vuoto sì spero che tu sia una donna non badare se ti chiamo bambino e spero che tu non dica ciò che dice mia madre io non l'ho mai detto ma se nascerai uomo io sarò contenta lo stesso e forse di più perché ti saranno risparmiate tante umiliazioni tante servitù tanti abusi se nascerai uomo ad esempio non dovrai temere d'essere violentato nel buio di una strada non dovrai servirti di un bel viso per essere accettato al primo sguardo di un bel corpo per nascondere la tua intelligenza non subirai giudizi malvagi quando dormirai con chi ti piace non ti sentirai dire che il peccato nacque il giorno in cui cogliesti una mela faticherai molto o meno potrai batterti più comodamente per sostenere che se Dio esistesse potrebbe essere anche una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza potrai disubbidire senza venire deriso amare senza svegliarti una notte con la sensazione di precipitare in un pozzo difenderti senza finire insultato naturalmente ti toccheranno altre schiavitù altre ingiustizie neanche per un uomo la vita è facile sai poiché avrai muscoli più saldi ti chiederanno di portare fardelli più pesi ti imporranno arbitraria responsabilità poiché avrai la barba rideranno se tu piangi e perfino se hai bisogno di tenerezza poiché avrai una coda davanti ti ordineranno di uccidere o essere uccisa alla guerra ed esigeranno la tua complicità per tramandare la tirannia che instaurarono nelle caverne eppure o proprio per questo essere un uomo sarà un'avventura altrettanto meravigliosa un'impresa che non ti deluderà mai almeno lo spero perché se nascerei uomo spero che tu diventi un uomo come io l'ho sempre sognato dolce coi deboli feroce coi prepotenti generoso con chi ti vuol bene spietato con chi ti comanda infine nemico di chiunque racconti che Gesù sono figli del padre e dello spirito santo non della donna che li partorì bambino io sto cercando di spiegarti che essere un uomo non significa avere una coda davanti significa essere una persona e anzitutto a me interessa che tu sia una persona è una parola stupenda la parola persona perché non pone limiti a un uomo o una donna non traccia frontiere tra chi ha la coda e chi non ce l'ha del resto il filo che divide chi ha la coda da chi non ce l'ha è un filo talmente sottile in pratica si riduce alla facoltà di poter crescere o no una creatura nel ventre il cuore e il cervello non hanno sesso e neanche il comportamento se sarai una persona di cuore e di cervello ricordalo io non starò certo tra quelli che ti ingiungeranno di comportarti in un modo o nell'altro in quanto maschia femmina ti chiederò solo di sfruttare il miracolo d'essere nato di non cedere mai alla viltà è una bestia che sta sempre in agguato la viltà ci morde tutti ogni giorno e sono pochi coloro che non si lasciano sbranare da lei in nome della prudenza in nome della convenienza a volte della saggezza vili fino a quando un rischio li minaccia gli umani diventano spavaldi dopo che il rischio è passato non dovrai evitare il rischio mai anche se la paura ti frena venire al mondo è già un rischio quello di pentirsi poi d'esserci venuti forse è troppo presto per parlarti così forse dovrei tacerti per ora le brutture le malinconie forse dovrei raccontarti un mondo di innocenze e gaiezze ma sarebbe come tenderti un inganno bambino sarebbe come indurti a credere che la vita è un tappeto morbido sul quale si può camminare scalzi e non una strada di sassi sassi contro cui si inciampa si cade ci si ferisce sassi contro cui bisogna proteggerci con scarpe di ferro ma neanche questo basta perché mentre proteggi i piedi c'è sempre qualcuno che raccoglie una pietra per tirartela in testa e e per oggi ho finito figlio mio figlia mia la lezione ti è giunta chissà che direbbero alcuni se mi ascoltassero mi accuserebbero di essere pazza o semplicemente crudele ho guardato la tua ultima fotografia e a cinque settimane sei lungo meno di un centimetro stai cambiando molto più che un fiore misterioso ora sembra una graziosissima larva anzi un pesciolino cui spuntano svelte le pinne quattro pinne che diverranno gambe e braccia gli occhi sono già due minuscoli granelli neri con un cerchio intorno in fondo al corpo è una codina la didascalia dice che in questo periodo è quasi impossibile distinguerti dall'embrione di un qualsiasi mammifero se tu fossi un gatto appariresti più o meno ciò che sei ora infatti il volto non c'è non c'è nemmeno il cervello io ti parlo bambino e tu non lo sai nel buio che t'avvolge ignori addirittura ad esistere potrei buttarti via e non sapresti mai che t'ho buttato via non sapresti mai se ti ho fatto un torto o un regalo ieri ho avuto un cedimento di malumore devi scusare il discorso sul fatto che potrei buttarti via e tu non sapresti nemmeno se ti ho fatto un torto o un regalo è un discorso e basta la mia scelta non è affatto mutata anche se intorno a me ciò solleva sorpresa stanotte ho parlato con tuo padre gli ho detto che c'eri gliel'ho detto a telefono perché si trova lontano e a giudicare da quello che ho dito non gli ho dato una buona notizia ho udito anzitutto un profondo silenzio neanche fosse caduta la comunicazione e poi ho udito una voce che balbettava roca quanto ci vorrà gli ho risposto con allegria nove mesi suppongo anzi meno di otto ormai e allora la voce ha smesso d'essere roca per diventare fredda parlo di denaro che denaro ho replicato il denaro per disfarsene no? eh sì ha detto proprio disfarsene neanche tu fossi un fagotto e quando più serenamente possibile gli ho spiegato che avevo tutt'altra intenzione si è perduto in un lungo ragionamento dove le preghiere si alternavano ai consigli i consigli alle minacce le minacce alle lusinghe pensa alla tua carriera considera le responsabilità un giorno un giorno potresti pentirtene cosa diranno gli altri io sorridevo quasi divertita però mi sono divertita assai meno quando incoraggiato dal fatto che ascoltassi zitta ha concluso che la spesa potevamo sostenere la metà dopo tutto eravamo colpevoli entrambi mi ha colto la nausea mi sono vergognata per lui e ho abbassato il ricevitore pensando che un tempo lo amavo lo amavo un giorno io e te dovremo discutere un poco su questa faccenda chiamata amore perché onestamente non ho ancora capito di che cosa si tratti il mio sospetto è che si tratti di un imbroglio gigantesco inventato per tener buona la gente e distrarla di amore parlano i preti i cartelloni pubblicitari i letterati i politici coloro che fanno all'amore e parlando di amore presentandolo come tocca sana di ogni tragedia feriscono e tradiscono e ammazzano l'anima e il corpo io la odio questa parola che è ovunque in tutte le lingue amo camminare amo bere amo fumare amo la libertà amo il mio amante amo mio figlio io cerco di non usarla mai di non chiedermi nemmeno se ciò che turba la mia mente e il mio cuore è la cosa che chiamano amore infatti non so se ti amo non penso a te in termini di amore penso a te in termini di vita e tuo padre guarda più ci penso più credo di non averlo mai amato l'ho ammirato l'ho desiderato ma amato no così coloro che vennero prima di lui fantasmi deludenti di una ricerca sempre fallita fallita a qualcosa servì dopo tutto a capire che nulla minaccia la tua libertà quanto il misterioso trasporto che una creatura prova verso un'altra creatura ad esempio un uomo verso una donna o una donna verso un uomo non vi sono né cinghie né catene né sbarre che costringono a una schiavitù più cieca a un oblio altrettanto cieco dei tuoi diritti della tua dignità della tua libertà guai se ti regali a qualcuno in nome di quel trasporto come un cane che annaspa nell'acqua cerchi in vano di raggiungere una riva che non esiste la riva che annume amare ed essere amato e finisci neutralizzato deriso deluso nel caso migliore finisci col chiederti che cosa ti spinsi a buttarti nell'acqua lo scontento di te stesso la speranza di trovare in un altro ciò che non vedevi in te stesso la paura della solitudine della noia del silenzio il bisogno di possedere ed essere posseduto secondo alcuni è questo l'amore ma io temo che sia molto meno una fame che una volta saziata ti lascia una specie di indigestione e tuttavia tuttavia deve pur esserci qualcosa in grado di rivelarmi il significato di quella maledetta parola bambino deve pur esserci qualcosa in grado di farmi scoprire cos'è e che c'è ne ho tanto bisogno ed è in questo bisogno che penso forse è vero ciò che ha sempre sostenuto mia madre l'amore è ciò che una donna avverte per suo figlio quando lo prende tra le braccia e lo sente solo inerme indifeso almeno fino a quando è inerme indifeso lui non ti insulta non ti delude e se toccassi a te farmi scoprire il significato di quelle cinque lettere assurde proprio a te che mi rubi a me stessa e mi succhi il sangue e mi respiri il respiro un indizio esiste gli innamorati lontani si consolano con le fotografie ed io ho sempre in mano le tue fotografie è diventato ormai un'ossessione appena rientro in casa agguanto quel giornale calcolo i giorni la tua età e ti cerco oggi è compiuto sei settimane eccoti a sei settimane ripreso di spalle come sei diventato bellino non più pesce non più larva non più cosa in forme sembri già una creatura con quel testone calvo e rosa la spina dorsale è ben definita una striscia bianca e sicura nel mezzo le tue braccia non sono più protuberanze confuse né pinne ma ali ti sono spuntate le ali viene voglia di accarezzarle accarezzarti come si stalli nell'uovo secondo le fotografie sei sospeso in un diafano uovo che ricorda le uova di cristallo dentro cui si mette una rosa al posto della rosa tu dall'uovo parte un cordone che si conclude in una palla bianca lontana con venature di rosso e macchia di azzurro vista così sempre alla terra osservata da migliaia e migliaia di miglia sì è proprio come se dalla terra partisse un filo interminabile lungo quanto l'idea della vita e da quelle distanze remote giuncesse a te in modo così logico così sensato ma come fanno a dire che l'essere umano è un incidente della natura il medico aveva detto di tornare da lui dopo sei settimane domani ci vado ed aghi di inquietudine mi bucano l'anima alternando vampate di gioia con un tono che oscillava tra il solenne e l'allegro alzato il foglio e ha detto congratulazioni signora automaticamente ho corretto signorina è stato come tirargli uno schiaffo solennità ed allegria sono scomparse e fissandomi con voluta indifferenza ha risposto ah poi ha preso la penna ha cancellato signora e ha scritto signorina così in una stanza gelidamente bianca attraverso la voce di un uomo gelidamente vestito di bianco la scienza mi ha dato l'annuncio ufficiale che c'eri non mi ha impressionato per niente visto che lo sapevo già è molto prima di lei però mi ha sorpreso che si sottolineasse il mio stato civile e si portasse quella correzione sul foglio aveva l'aria di un'avvisaglia di una complicazione avvenire perfino il modo in cui subito dopo la scienza mi ha detto di spogliarmi e stendermi sul lettuccio non era cordiale sia il medico che l'infermiera si comportavano come se gli fossi antipatica non mi guardavano in faccia in compenso si scambiavano occhiate per dirsi chissà che quando sono stata sul lettuccio l'infermiera si è dirata perché non avevo divaricato le gambe e non le avevo appoggiate sulle due stampelle di metallo lo ha fatto lei con fastidio e dicendo qui qui io mi sentivo ridicola e vagamente oscena le sono state grata quando mi ha coperto il ventre con un asciogamano ma allora è successo il peggio perché il medico ha infilato un guanto di gomma e ha pigiato frugato pigiato di nuovo quasi volesse schiacciarti perché non ero sposato infine ha sentenziato tutto bene tutto regolare ne ha anche dato alcuni consigli che non fumi troppo non compia sforzi eccessivi non mi proponga soluzioni criminali criminali? ho chiesto stupita e lui la legge lo proibisce ricordi per rafforzare la minaccia mi ha perfino prescritto alcune pillole di luteina e mi ha ingiunto di tornare da lui ogni 15 giorni me l'ha ingiunto senza un sorriso prima di informarmi che il pagamento si regolava alla cassa quanto all'infermiera non mi ha salutato nemmeno e mentre chiudeva la porta mi è parso che scottesse la testa con disapprovazione temo che dovrai abituarti a simili cose nel mondo in cui ti accingi ad entrare e malgrado i discorsi sui tempi che mutano una donna che aspetta un figlio senza essere sposata è vista il più delle volte come un irresponsabile nel migliore dei casi come una stravagante una provocatrice o un'eroina mai come una mamma uguale alle altre il farmacista da cui ho comprato le pillole di luteina mi conosce e sa bene che non sono sposata quando gli ho dato la prescrizione ha alzato le sopracciglia e mi ha fissato con sgomento dopo il farmacista sono andata dal sarto per ordinargli un cappotto si avvicina l'inverno voglio che tu stia al caldo con la bocca piena di spilli per appuntarmi addosso il modello di tela ha incominciato a prendere le misure e quando gli ho spiegato che doveva prenderle molto abbondanti perché ero incinta d'inverno sarei stata grossa e violentemente arrossito ha spalancato la bocca e ho temuto che inghiottisse gli spilli non li ha inghiottiti grazie a Dio ma gli sono caduti per terra gli è caduto anche il metro e ho provato come un dispiacere a imporgli tanto imbarazzo lo stesso col commendatore che ci piaccia o no il commendatore è colui che compra il mio lavoro e ci dà i soldi per vivere sarebbe stato disonesto non informarlo che tra qualche mese non potrò più lavorare così sono entrata nel suo ufficio e l'ho informato è rimasto senza fiato poi si è ripreso e ha balbettato che rispettava la mia decisione anzi mi ammirava moltissimo per averla presa mi considerava assai coraggiosa però sarebbe stato opportuno non raccontarlo a tutti una cosa è parlarne tra noi gente di mondo e una cosa è parlarne con chi non può capire tanto più che lei potrebbe cambiare idea no? ha insistito parecchio su questa faccenda del cambiare idea almeno fino al terzo mese avrei avuto tutto il tempo di ripensarci diceva e ripensarci avrebbe dimostrato saggezza la mia carriera era così ben avviata perché interromperla per un sentimentalismo ci pensassi bene non si trattava neanche di interromperla per pochi mesi o un anno si trattava di mutare l'intero corso della mia vita non avrei più potuto disporre di me stessa e non dimentichiamo che la ditta mi aveva lanciato puntando proprio sulla disponibilità che offrivo lui teneva in serbo tanti bei progetti per me davvero se ci ripensavo non avevo che da dirlo e mi avrebbe aiutato tuo padre ha telefonato una seconda volta gli tremava la voce voleva sapere se ho avuto conferma gli ho risposto di sì mi ha chiesto una seconda volta quando avrei sistemato la cosa ho posato una seconda volta al ricevitore senza ascoltarlo quel che non capisco è perché quando una donna annuncia ad essere legalmente incinta tutti si mettono a fare le feste toglierle di mano i pacchetti e supplicarla di non strapazzarsi restare tranquilla che bella cosa felicitazioni si accomodi qui si riposi con me rimangono ferme zitti o fanno discorsi sull'abortire la diresti una congiura un complotto per dividerci e vi sono momenti in cui mi sento inquieta in cui mi chiedo chi vincerà noi o loro forse per via di quella telefonata ha rinverdito amarezze che credevo dimenticate offese che credevo superate quelle inflitte mi dai fantasmi grazie a cui compresi che l'amore è un imbroglio le ferite sono chiuse le cicatrici appena visibili ma una telefonata così basta farle dolorare di nuovo come vecchie ossarotte quando cambia il tempo il tuo universo è l'uovo dentro il quale galleggi rannicchiato e quasi privo di peso da sei settimane e mezzo lo chiamano sacco amniotico e il liquido che lo riempie è una soluzione salina che serve a non farti combattere con la forza di gravità a proteggerti dai colpi provocati dai miei movimenti ed anche a nutrirti fino a quattro giorni fa anzi era la tua sola fonte di nutrimento con un processo complicatissimo e quasi incomprensibile tu ne indiottivi una parte ne assorbivi un'altra ne spellevi un'altra ancora e ne producevi di nuovo da quattro giorni invece la tua fonte di nutrimento sono io attraverso il cordone umbilicale sono successe tante cose in questi giorni io mi esalto e t'ammiro a pensarci la placenta che avvolge il tuo uovo come una pelliccia calda si è rafforzata il numero delle tue cellule sanguigne è aumentato e tutto procede a una velocità pazza l'impalcatura delle tue vene è ormai visibile sono perfettamente visibili anche le due arterie e la vena del cordone umbilicale che ti porta il mio ossigeno e le sostanze chimiche di cui hai bisogno inoltre ti sei sviluppato il fegato ti sei abbozzato tutti gli organi interni perfino il tuo sesso e i tuoi organi riproduttivi hanno incominciato a sbocciare lo sai già tu se sarai un uomo o una donna ma quel che mi esalta di più bambino è che ti sei fatto anche le mani ti si vedono ormai le dita ed hai una piccola bocca ormai con le labbra hai un principio di lingua hai le cavità per venti dentini hai gli occhi così minuscolo neanche un centimetro e mezzo così lieve neanche tre grammi hai gli occhi a me sembra addirittura impossibile che tutte queste cose siano successe nello spazio di poche settimane mi sembra irreale eppure l'inizio del mondo quando si formò quella cellula e tutto ciò che nasce e respira e muore per rinascere ancora deve essere avvenuto come avviene in te in un brulicare un gonfiarsi un moltiplicarsi di vita sempre più complicata sempre più difficile sempre più veloce e ordinata e perfetta quanto lavori bambino chi ha detto che dormi tranquillo cullato dalle tue acque non dormi mai tu non riposi mai chi ha detto che te ne sta in pace in un'armonia di suoni che giungono alla tua membrana dolcemente ovattati sono certa che è un continuo sciaguattare da te un continuo pompare soffiare frusciare un esplodere di rumori brutali chi ha detto che sei materie inerte quasi un vegetale esterpabile con un cucchiaio se voglio liberarmi di te sostengono è questo il momento anzi il momento incomincia ora in altre parole avrei dovuto aspettare che tu diventassi un essere umano con gli occhi e le dita e la bocca per ammazzarti prima no prima eri troppo piccolo per essere individuato e strappato sono pazzi la mia amica afferma che la pazza sono io lei che è sposata ha abortito quattro volte in tre anni aveva già due figli averne un terzo sarebbe stato inammissibile dice anche i polli non mettano al mondo tutti i figli che potrebbero avere se da ogni uovo gallato nascesse un pulcino questo pianeta sarebbe un pollaio lo sai che tante galline si bevono le uova lo sai che le covano solo una volta o due all'anno e i conigli lo sai che certe coniglie mangiano i neonati più deboli per poter allattare gli altri eliminarli all'inizio non sarebbe meglio che metterli al mondo per mangiarli o farli mangiare secondo me sarebbe ancora meglio non concepirli affatto ma appena azzardo quel ragionamento la mia amica si arrabbia risponde che la prendeva la pillola certo le faceva male eppure la prendeva poi una sera se ne dimenticò e di cui il primo aborto con la sonda mi dice non ho capito bene cosa sia questa sonda suppongo un ago che uccide in compenso ho capito che la usano molte e sapendo che procura sofferenze infinite a volte la prigione ti chiedi perché da qualche giorno non faccio che parlarti di questo non lo so forse perché gli altri me ne parlano in modo ossessivo forse perché a un certo punto ci ho pensato anch'io senza dirmelo forse perché non voglio confidare a nessun altro un dubbio che mi avvelina l'anima la sola idea di ucciderti oggi mi uccide e tuttavia mi capita di considerarla mi confonde quel discorso sui polli mi confonde l'ira della mia amica quando le mostro la tua fotografia e indico i tuoi occhi le tue mani lei risponde che per vederli davvero i tuoi occhi per vederle davvero le tue mani non basterebbe il microscopio grida che vivo di fantasia che pretendo di razionalizzare i miei sentimenti i miei sogni ha perfino esclamato allora i girini che togli dalla vasca del tuo giardino perché non diventino ranocchi e non ti disturbino la notte gracidando lo so continuo senza pietà ad informarti sulle infamie del mondo in cui ti prepari ad entrare sugli orrori quotidiani che noi commettiamo e ti espongo concetti troppo complicati ma a poco a poco va maturandosi in me la certezza che tu li capisca perché sai già tutto incominciò il giorno in cui mi serviziavo il cervello per tentare di spiegarti che la terra è rotonda come il tuo uovo che il mare è composto d'acqua come quella dentro cui galleggi e non riusciva ad esprimere ciò che volevo d'un tratto mi paralizzò l'intuizione che il mio sforzo fosse inutile che tu sapessi già tutto e molto più di me e il sospetto d'aver intuito il giusto non mi abbandona se nel tuo uovo c'è l'universo perché non dovrebbe esserci anche il pensiero non dicono alcuni che il subconscio sia il ricordo dell'esistenza vissuta prima di venire alla luce lo è allora dimmi tu che sei tutto quando incomincia la vita dimmi ti supplico è davvero incominciata la tua da quanto dal momento in cui la stilla di luce che chiamano spermio bucò e scisse la cellula dal momento in cui ti sbocciò un cuore e prese a pompare sangue dal momento in cui ti fiorì un cervello un midollo spinale e ti avviasti ad assumere una forma umana oppure quel momento deve ancora venire e sei solo un motore in fabbricazione cosa darei per rompere il tuo mutismo penetrare nella prigione che ti avvolge che avvolgo cosa darei per vederti ascoltare la tua risposta certo siamo una ben strana coppia io e te tutto in te dipende da me e tutto in me dipende da te se tu ti ammali io mi ammalo se io muoio tu muori però io non posso comunicare con te e tu non puoi comunicare con me in quella che forse la tua sapienza è infinita non conosci nemmeno la faccia che ho l'età che ho la lingua che parlo ignori da dove vengo dove mi trovo cosa faccio nella vita se tu volessi immaginarmi non avresti neanche un elemento per indovinare se sono bianca o nera giovane o vecchia alta o bassa ed io mi chiedo ancora se sei un non una persona mai due strane legate allo stesso destino furono più strane di noi mai due sconosciuti uniti nello stesso corpo furono più sconosciuti più lontani di noi ho dormito male e avevo dolori giù in fondo al ventre eri tu mi giravo angosciata nel letto e il sonno era un'ossessione di incubi assurdi in uno c'era tuo padre e piangeva non lo avevo mai visto piangere non credevo che ne fosse capace le sue lacrime cadevano in tonfi di piombo nella vasca del mio giardino e la vasca era piena di nastri interminabili e gelatinosi dentro i nastri c'erano piccole uova nere che si allungavano in una specie di coda i girini io non vadavo a tuo padre mi preoccupavo soltanto di ammazzare i girini perché non diventassero ranocchi e non mi interessero sveglia gracidando la notte il sistema era semplice bastava sollevare i nastri con un bastone e posarli sull'erba del prato dove il sole li avrebbe soffocati seccati ma i nastri sgusciavano via scivolosi in svelte volute che ricadevano nell'acqua e affondavano dentro il limo non riuscivo a posarli sul prato poi tuo padre non ha pianto più e si è messo ad aiutarmi riuscendoci senza difficoltà con un ramo d'albero tirava su dall'acqua quei nastri che a lui non scivolavano via e li ammucchiava sull'erba metodico calmo ed io ne soffrivo perché era come vedere decine centinaia di bambini che soffocavano e seccavano al sole sconvolta gli ho tolto il ramo dalle mani e ho gridato lasciali stare tu sei nato no nell'altro incubo c'era un canguro era un canguro femmina dal suo utero è uscita una cosa tenera e viva una specie di delicatissimo verme si è guardato intorno sbalordito quasi a tentare di capire dove fosse ed appreso ad arrampicarsi su per il corpo peloso procedeva lentamente faticosamente inciampando sdrucciolando sbagliando ma alla fine ha raggiunto la sacca e con un ultimo sforzo tremendo ci si è buttato dentro a capofitto io mi rendevo conto che non eri te che era l'embrione del canguro il quale nasce così perché esce presto dalla prigione dell'uovo e completa la sua formazione all'aperto però gli parlavo come se si fosse trattato di te lo ringraziavo per esser venuto a mostrarmi di non essere una cosa ma una persona gli dicevo che ora non eravamo più due strani due sconosciuti e ridevo felice ridevo ma è arrivata la nonna era molto vecchia e molto triste sulle sue spalle curve sembrava che stagnasse tutto il peso del mondo tra le mani sciupate teneva un bambolottino con gli occhi chiusi e la testa sproporzionata diceva sono tanto stanca sto pagando per gli aborti io ho avuto otto figli e otto aborti se fossi stata ricca avrei avuto sedici figli e nemmeno un aborto non è vero che ci si fa l'abitudine ogni volta è la prima volta ma questo il prete non lo capiva il bambolottino era grande come un crucifisso di quelli che si portano in tasca levandolo come un crucifisso la nonna è entrata in una chiesa dove si è inginocchiata a un confessionale e ha incominciato a bisbigliare qualcosa alla grata dall'interno del confessionale si è alzata una voce cattiva la voce del prete lei ha ucciso una creatura ha ucciso una creatura la nonna tremava per il terrore che gli altri ascoltassero si raccomandava non gridi reverendo la prego lei mi fa arrestare la prego la voce del prete però non si abbassava e allora la nonna è scappata per strada correva inseguita dai poliziotti ed era straziante vedere una vecchia che correva così io mi sentivo svenire per lei e pensavo le scoppiera il cuore morirà i poliziotti l'hanno raggiunta sulla porta di casa le hanno rubato il bambolottino e le hanno legato le braccia lei ha detto fiera sono pentita ma lo rifarò non lo faccio mai volentieri ma non posso mantenere tanti figli non posso mi hanno svegliato quei dolori giù in fondo al ventre non devo vedere più la mia amica sono i suoi discorsi che mi provocano gli incubi ieri sera mi ha invitato a cena suo marito non c'era le è sembrato una buona occasione per parlarmi di te ed è stato un tormento sembra infatti che un fisico il dottor H.B. Munson sia d'accordo con lei perfino il feto dichiara costui è materia pressoché inerte quasi un vegetale estirpabile con un cucchiaio al massimo lo si può considerare un sistema coerente di capacità irrealizzate secondo alcuni biologi invece l'essere umano incomincia col concepimento perché l'uovo fertilizzato contiene DNA l'acido desossi ribonucleico che è la base delle proteine che formano un individuo tesi cui il dottor Manson replica che anche lo spermatozoo anche l'uovo non fertilizzato contiene DNA vorremmo considerare l'uovo e lo spermatozoo come esseri umani poi c'è un gruppo di medici per i quali un essere umano diventa un essere umano dopo 28 settimane cioè al momento in cui può sopravvivere fuori dell'utero anche se la gestazione non è completata e c'è un gruppo di antropologi per i quali un essere umano non è nemmeno un neonato ma qualcuno che è stato plasmato da influenze culturali e sociali è esploso quasi un litigio la mia amica giudicava con favore l'opinione degli antropologi ed io ero portata ad accettare quella dei biologi irritata ma accusato di stare dalla parte dei preti sei cattolica 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 non sono cattolica e lei lo sa inoltre rifiuto ai preti ogni diritto di interferire in questa faccenda e lei lo sa ma non posso assolutamente non posso accettare gli arbitrari principi del dottor Manson non posso assolutamente non posso capire che si infila la sonda come se prendesse una purga con cui eliminare un cibo indigesto a meno che a meno che cosa sto tradendo la mia decisione mi sembrava di essere ormai così sicura di aver superato così gloriosamente tutte le incertezze tutti i dubbi perché ora tornano camuffati da mille pretesti è per via di questo malessere che mi fa girare la testa per via di questi dolori che mi accoltellano il ventre devo essere forte bambino devo tener fede a me stessa e da te devo portarti in fondo perché da grande tu sia qualcuno che non assomiglia né al prete che urlava nel sogno né alla mia amica e al suo dottor Manson né ai poliziotti che legavano le braccia alla nonna il primo ti considera proprietà di Dio la seconda ti considera proprietà della madre i terzi ti considerano proprietà dello Stato non appartieni né a Dio né allo Stato né a me appartieni a te stesso e basta dopo tutto sei tu che hai preso l'iniziativa ed io sbagliavo a credere di importi una scelta tenendoti non faccio che piegarmi al comando che mi impartisti quando si accese la tua goccia di vita non ho scelto nulla io ho obbedito fra me e te la possibile vittima non sei te bambino sono io non è questo che vuoi dirmi quando ti avventi come un vampiro contro il mio corpo non è questo che vuoi confermare quando mi regali la nausea sto male da una settimana lavoro con fatica mi si è gonfiata una gamba sarebbe terribile se dovesse rinunciare a quel viaggio ormai stabilito e il commendatore sembra averlo compreso in tono quasi minaccioso oggi mi ha chiesto se potrò ed ha aggiunto che se lo augura si tratta di un progetto importante costruito su misura per me ci tiene e ci tengo anch'io se non potessi andare certo che vi andrò il dottore non disse che la gravidanza non è una malattia è uno stato normale che devo continuare a fare ciò che ho sempre fatto tu non mi tradirai risù